Ciao a tutti, è passato ormai un anno dalla promozione che abbiamo raggiunto tutti insieme da Uno, promozione che è arrivata al termine di una stagione difficilissima con tanti alti e bassi e in cui avevamo la responsabilità di riportare la Virtus nella massima serie, responsabilità alla quale abbiamo risposto con il lavoro duro, con la mentalità e con l'unione del gruppo, che poi alla lunga si è dimostrata la nostra arma in più. Per me è stata una stagione difficile, con minutaggi alti e bassi, in cui ho avuto un infortunio al polpaccio difficile da risolvere, ma all'interno della quale mi sono tolto anche tante soddisfazioni, come per esempio il tiro della vittoria allo scadere a Casale Monferrato o la vittoria in casa contro Biella, partita in cui segnai con il 100% nel campo contro mio fratello. Concludo dicendo che per me è stato un onore aver fatto parte della vostra società e di aver raggiunto insieme a voi questo obiettivo. Saluto tutti i tifosi della Virtus e vi auguro il meglio per il vostro avvenire e l'augurio è quello di incontrarci magari un giorno da avversari su qualche campo. Ciao a tutti!